Ciao a tutti cari ascoltatori Meteo e ben ritrovati in questo nuovissimo video Oggi su questo canale andremo a parlare in questo specifico video dello speciale neve Neve che cadrà nella giornata di domani a quote veramente molto 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 basse Fiocchi che ipoteticamente potrebbero raggiungere addirittura la pianura Ben ritrovati a tutti sul canale se siete interessati a previsioni meteo accurate, precise e dettagliate Anche per il vostro territorio come in questo caso siete sul canale youtube giusto Anzi direi perfetto ed è per questo che vi invito ad iscrivervi al canale Lasciare un mi piace e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con nuovissimi video Per rimanere sempre informati come appena detto basterà schiacciare il tasto iscriviti E' il costo totale di 0 euro quindi totalmente gratuito Bene detto questo partiamo subito da fare un piccola premessa Partiamo da vedere la situazione a in quota quindi a 1500 metri Come si può vedere da queste immagini in questo momento le temperature sono all'incirca di 2 gradi A 1500 metri soprattutto sul lato Adriatico e della Liguria Mentre invece sul lato del Medio e Basso Tirreno e della Sicilia La temperatura è all'incirca compresa tra i 4 e i 10 gradi Questo cambierà rapidamente a partire già dalla serata Quando sulla Val Padana entrerà una termica di circa meno 2-4 gradi Soprattutto su parte della Lombardia e del Piemonte Quest'ultima regione avrà le temperature più basse dove potrebbe raggiungere anche i meno 4 gradi a 1500 metri Nel frattempo durante le 6 di mattina si andrebbe a creare il Genova Low C'è questo minimo depressionario centrato perfettamente su Genova Che andrebbe a richiamare questa aria fredda proveniente dal Rodano Quindi stiamo parlando della Rodanata perfetta Perché andrebbe proprio a richiamare aria fredda dal Rodano Portando precipitazioni a quote bassissime Soprattutto sul Piemonte, Liguria di Ponente E a quote molto molto basse su Liguria di Levante e sulla Toscana del Nord-Ovest Così a titolo informativo se una situazione del genere si fosse verificata di gennaio o dicembre Staremo parlando di termiche veramente incredibili Quindi stiamo parlando di termiche che in inverno potevano raggiungere anche meno 8-10 gradi a 1500 metri E nevicate fino in pianura Però questo non è successo nel momento perfetto ma è successo comunque a fine aprile Ed ha dell'incredibile proprio per la sua intensità Perché stiamo parlando di termiche che in quote raggiungono anche valori fino a meno 6 gradi Come si può vedere in queste immagini Freddo che poi si farà sentire anche sul Nord-Est ma in maniera meno intensa rispetto che al Nord-Ovest Questo minimo depressionario poi si andrebbe a un po' distruggere Come si può vedere la sua struttura inizierebbe a indebolirsi sempre di più a partire dal tardo pomeriggio Comunque lasciando dell'instabilità sulle regioni del medio-alto TRN Andando a vedere però le precipitazioni Partiamo dalle precipitazioni normali Tra poco andremo a fare proprio lo speciale neve Perché come si può vedere da queste immagini Precipitazioni che già nella giornata di oggi si sono fatte vedere in maniera molto intensa Sulle regioni del Nord Italia E si faranno vedere in maniera ancora più intensa nella mattinata di domani Quando le precipitazioni assumeranno carattere possibilmente anche temporalesco Soprattutto sulle coste di Liguria e Toscana Poi precipitazioni che si faranno vedere in maniera molto intensa anche su tutto il Nord A partire dal pomeriggio a tardo pomeriggio Lieve miglioramento sulle regioni del centro Italia Andiamo però qua a parlare della neve Questo è quello che ci interessa Gli accumuli Come si può vedere anche da queste immagini Anzi scusate Partiamo prima da vedere le precipitazioni e poi dopo gli accumuli Aspettate che ora metto il modello giusto Eccolo qua Quello rosa ricordo Le precipitazioni in colore rosa ricordo essere le nevicate Come si può vedere già nella giornata di oggi La neve comunque si è fatta vedere Si farà vedere in maniera molto intensa Soprattutto sulla zona alpina E a tal tarda serata la neve inizierà a farsi vedere anche a quote già più basse Sulla zona della Liguria di Levante Sulla zona tra Imperia, Luano e Savona Qua la neve si dovrebbe far vedere in maniera già più abbondante a partire dalle 10 di sera Peggioramento molto intenso e da segnalare a partire tra le 6 e le 10 del mattino Quando le precipitazioni inizierebbero a farsi molto molto intense L'area fredda inizierebbe a interessare la Liguria Soprattutto quella di Levante Ma comunque come appena detto anche quella di Ponente E anzi soprattutto quest'ultima potrebbe vedere la neve Tra Imperia, Luano, Savona e anche alcune località di Genova Fino a quote veramente molto molto basse di collina Quindi quote neve che potrebbe raggiungere anche i 500 metri Nel momento di massimo freddo e massime precipitazioni Per quanto riguarda invece il resto d'Italia Neve che tra le 10 e le 13 del pomeriggio potrebbe essere vista fino a quote pianeggianti sul Piemonte In particolar modo sul sud del Piemonte Le aree che potrebbero vedere qualche fiocco Sono tra Torino, Bra, Acquiterme, Alessandria, Casale Monferrato e anche Novara Queste sono le aree dove la neve potrebbe cadere a quote più basse fino in pianura Mentre invece il generale sul Piemonte Torino non dovrebbe essere interessata Neve che si dovrebbe vedere però anche a Cuneo La quote neve è all'incirca tra i 500 e i 700 metri Sulle aree vicino alla zona prealpina Mentre come appena detto nelle zone citate prima Qua la neve potrebbe raggiungere anche gli 0 metri Comunque più o meno indicativamente Ecco per dare una cifra Neve che è attesa sul Piemonte tra i 300 e i 500 metri Come livello minimo Sul resto d'Italia invece neve che si farà vedere Neve che si farà vedere sull'Appennino Toschio Emiliano Quello anche Ligure Emiliano Con accumuli che potrebbero raggiungere anche valori molto interessanti Adesso li andremo a vedere Poi precipitazioni che nella serata si sposterebbero verso il nord est Anche qui portando una neve molto intensa Su tutte le Alpi del Veneto, del Friuli e soprattutto del Trentino Neve anche a bassa quota in Lombardia Quota neve attesa intorno tra i 500 e i 700 metri Ma andiamo adesso a vedere gli accumuli di neve Eccoci qua in questo momento Come possiamo osservare La neve si sta accumulando Nella giornata di... Fino ad adesso si è accumulata Sulla zona delle Alpi A quote comunque abbastanza alte Stiamo parlando Più o meno di 1600-1700 metri Ma che crollerà nel giro di poco Come si può vedere qua Ecco le nevicate molto molto abbondanti Che si faranno vedere Tra Imperia e Savona Proprio quest'ultima città dovrebbe avere la neve più vicina Fino ad accumuli che stando ai modelli potrebbero raggiungere anche i 40 cm addirittura Neve che si farà vedere in maniera anche abbondante Sul Appennino Tosco Emiliano e sulle Apuane Dove qua l'accumulo potrebbe raggiungere tra i 5 e i 30 cm Ecco le quale nevicate che si spingerebbero praticamente quasi fino in pianura Accumulo che comunque non sarà mai molto abbondante A causa delle temperature che dovrebbero poi tendere ad aumentare Ma comunque un accumulo che al massimo potrebbe raggiungere il mezzo centimetro Dal mezzo centimetro fino a 5 cm Ma io penso che se arriverà sarà prevalentemente neve scelografica Neve invece che si farà vedere in maniera molto molto intensa È proprio tra Lombardia e Trentino Qua su queste Alpi Addirittura l'accumulo di neve potrebbe raggiungere il metro E la neve più intensa è attesa a partire tra la giornata in generale del domani Quindi tra le 5 e le 20, quindi le 8 di sera Neve che invece sarà a quote molto più alte sul centro e sud Italia Ma come penso che avete intuito Qua stiamo parlando soprattutto del centro nord Perché è qui la situazione più interessante Per quanto riguarda poi l'evoluzione delle temperature Neve che potrebbe essere aiutata anche da una temperatura abbastanza bassa Perché come si può vedere nella mattinata di domani Quando sono attese le precipitazioni nevose Vicino alla pianura del sud del Piemonte La temperatura potrebbe essere compresa tra i 0 e i 2 gradi Invece attenzione perché questo cuscinetto sul Piemonte non si è creato O non si andrà a creare in maniera molto molto omogenea Perché proprio Torino potrebbe essere la grande assente dal vedere dei fiocchi neve Qui proprio perché la temperatura è attesa con circa 2-3 gradi superiore rispetto al resto del Piemonte Quindi stiamo parlando di una temperatura che potrebbe raggiungere i 5 gradi durante la pioggia Ma che comunque consentirebbe della neve a bassa quota Temperature comunque veramente molto molto basse Soprattutto sulle Alpi occidentali Perché come si può vedere Temperature che su Val d'Aosta, Piemonte e parte anche della Lombardia Potrebbero raggiungere fino anche a meno 20-25 gradi Bene insomma una situazione molto interessante Spero di aver dato massima chiarezza E nel caso se riuscirò faremo ancora una live questa sera Nel frattempo ti invito ancora una volta ad iscriverti al canale Lasciare un mi piace e attivare la campanella Prima di essere sempre aggiornato con nuovissimi video